Quello era un bel video, ma ora vi faccio un video invece per mettervi in guardia. Questo è un paziente che è venuto, che è andato via con i provvisori dopo la chirurgia e dopo torna sempre con i provvisori in queste condizioni. Ragazzi, non fumate con i denti. Quando andate all'estero per rifare i denti, cercate di farlo coincidere, questo cambio, anche con un cambio della vostra vita. Infatti lui ci è rimasto male, Pietro, mi ha detto ora come abbiamo finito i live, guarda questo paziente, è partito con questi provvisori e dopo qualche mese è tornato con i provvisori in queste condizioni. Io ve le faccio vedere queste foto perché è giusto sensibilizzarvi, fumare non è una bella cosa e non meravigliatevi se la nicotina vi si attacca sui denti artificiali. Perché i denti sono artificiali, non sono denti naturali. Se vi si attacca il tabacco sui denti naturali, figuriamoci sui denti artificiali. Cercate di non fumare. Vi mettiamo dei buoni lavori in bocca, cercate di mantenerli nel tempo.